42 morti e 5 feriti di cui 4 in gravi condizioni e il bilancio dell'incidente è avvenuto questo venerdì mattina in Francia su una strada dipartimentale della Gironda. L'incidente si è verificato in una curva particolarmente stretta che molti abitanti della zona descrivono come pericolosa. L'autista di un tir carico di legna ha perso il controllo e il mezzo è andato a sbattere contro un autobus con a bordo 49 persone che ha subito preso fuoco. Il Pullman era partito mezz'ora prima da un paesino vicino Bordeaux. Trasportava un gruppo di pensionati in gita per un'escursione giornaliera. Si tratta del più grave incidente stradale avvenuto in Francia dal 1982. Dalla Grecia dove in visita ufficiale sono arrivate le condoglianze del presidente François Hollande. Sul luogo dell'incidente si sono recati il primo ministro Manuel Valls, il ministro degli interni Bernard Kasneuf e il segretario di Stato ai trasporti. E' uno shock terribile. Uno shock terribile per questo territorio, per la Gironda, per l'Aquitania. E' uno shock terribile per la Francia e oggi la Francia e i francesi sono in lutto. La committiva di anziani doveva visitare una fabbrica di prosciutti nel sud del paese. L'autista dell'autobus è sopravvissuto all'incidente. Alcuni testimoni descrivono il suo comportamento come eroico. Ha detto di essersi ritrovato il camion davanti messo di traverso. Subito dopo è riuscito ad aprire le porte e a far uscire qualche passeggero mettendo a repentaglio la propria vita.